Otto Plus è un'azienda del settore audioprotesico che in realtà nasce molti anni fa perché già nel 1974 mio padre iniziò ad applicare apparecchi acustici. Otto Plus si basa su dei principi fondamentali il fatto di seguire la persona di dare un servizio a 360 gradi attorno alla persona infatti abbiamo diversi centri abbiamo 16 centri sparsi in Romagna e nelle Marche eventi ambulatori. Jacopo? Jacopo? Capitano? Giacchetti? Eccomi. Buongiorno. Buongiorno Jacopo benvenuto accomodati pure. Grazie. Allora oggi facciamo il controllo dell'udito è molto semplice prendiamo le cuffie te le metto e tutte le volte che sentirai un suono un fischietto anche molto piccolo molto lontano mi devi alzare la mano semplicissimo Jacopo tutto ok? Stai sentendo? Romagna mia Romagna Jacopo tutto ok? Li sentivi i suoni? No, sentivo solo i nostri tifosi. Devo dire che ho avuto la fortuna di giocare in tante piazze importanti in Italia però quello che respiriamo qua quotidianamente è pazzesco dai più grandi ai più piccoli abbiamo veramente manifestazioni di affetto quotidiane e soprattutto anche nei momenti difficili hanno sempre una parola di sostegno ma veramente di ogni età e quindi è una cosa che negli anni difficilmente ho visto senza parlare poi del palazzetto il palazzetto dove veramente è una boggio ogni domenica ci seguono tantissimi anche in trasferta Io ho iniziato ad applicare protesi acustiche perché la mia nonna era sorda so dal di lì nasse questo portato avanti nel tempo nel 1989 entro in società con Audio Medical a quel punto nasce Otto Plus oggi sono 48 persone suddivisi in impiegati e tecnici e sparsi sul territorio della Romagna perché io credo nella capillarizzazione Otto Plus applica protesi acustiche dalle protesi infantili agli adulti il compito principale è quello di poter reinserire e allenare le persone nella educazione dell'ascolto oggi a tutti gli apparecchi tradizionali si è aggiunto Lyric Lyric è l'unico apparecchio di inserzione profonda di cui siamo unici concessionari in Emilia Romagna, Marche Toscana e Umbria Otto Plus ha pensato di allargare il fronte del benessere legandosi ad alcuni marchi come New Balance, Birkestock e soprattutto sulle calze elastocompresse con la Bauerfein affrontando il fattore della sanitaria questa è Otto Plus Hashtag Funnel Zain Fashion Ci attuali Anche Oamm Grazie a tutti